Ho concluso oggi questo mio viaggio nelle nostre missioni in Iraq e in Afghanistan, ho incontrato i nostri militari impegnati in questi teatri, qui in Afghanistan ho voluto sottolineare il lavoro che abbiamo svolto, i risultati che abbiamo conseguito, il lavoro che c'è ancora da fare, sia nell'incontro con le autorità afghane che nell'incontro con i nostri militari qui impegnati. A loro va l'apprezzamento per il lavoro svolto, per la dedizione dimostrata, per i sacrifici che hanno dovuto sopportare. L'Italia in questo contesto è impegnata da anni nella lotta al terrorismo e nell'attività di addestramento alle forze armate di sicurezza afghane. C'è ancora tanto lavoro da fare e lo faremo come Italia dentro la missione a guida Nato, secondo le decisioni che verranno assunte nelle prossime settimane anche in relazione all'evoluzione del processo di pace che è alla base delle consultazioni tra Stati Uniti e il movimento talebano. Sulla base di questo, sulla base degli esiti del processo elettorale si potrà immaginare anche una diversa configurazione di questa missione. L'Italia farà la sua parte dentro le nuove prospettive che insieme andremo a definire. Però in questo momento la nostra prima attenzione è all'attività dei nostri militari, all'attività che hanno svolto, all'attività che stanno svolgendo e quella che svolgeranno, la loro sicurezza, il loro impegno per la pace, per la stabilità e per la difesa del nostro interesse nazionale.